L'istituto L'Amazon Kappa propone il Basic Program, un programma di studi avanzati in filosofia e scienza buddhista, residenziale a tempo pieno e online, creato dalla FPMT, fondazione per la preservazione della tradizione maiana, ideato dall'Amazon Paripoce. Il Basic Program è molto importante per approfondire la propria conoscenza e la pratica del buddismo. Anche per coloro che hanno intenzione di studiare i prossimi Master Program, il Basic Program è molto importante come preparazione e il Master Program diventa molto più semplice se studiato il Basic Program. Questi due programmi, il Master e il Basic Program, non sono disegnati solamente per conoscenza intellettuale ma per la pratica, per il modo che la persona che pratica e studia queste cose diventa una persona migliore, più felice, più tranquilla, più specificata. Sia che fate il corso da casa, online, oppure che venite qua. Questi studi sono estremamente importanti per la propria pratica. Quando verrete qua a studiare non concentratevi sulle difficoltà, concentratevi esclusivamente sullo studio. Andremo avanti per due anni e staremo insieme per due anni a studiare e imparare. Grazie, ciao, ci vediamo presto.